buon pomeriggio dal nuovo di via olimpia di castelfrentano per la semifinale di andata del trofeo della rinascita messo in palio dalla lega nazionale dilettante d'abruccio il trofeo per il calcio femminile a 11 oggi le nostre lady giallorosse faranno il loro esordio in questo trofeo per la prima volta giocheranno ad 11 ecco c'è mister gabriele di felice il nostro coordinatore tecnico del settore giovanile della scuola calcio non che mister degli esordienti qua c'è mister raniero tucci il preparatore dei portieri c'è anche mister anna c'è anche l'altro mister della femminile al momento mi spugge il nome e chiedo perdono mister anna pure c'è il direttore di gara si sta riscaldando e là in fondo c'è il tollo ecco le nostre ragazze il mister sta dando gli ultimi consigli prima della gara che avrà inizio alle 18 e 30 alle prossime riprese